Io credo che intanto occorra ripartire da un vecchio detto della saggezza popolare, che le idee camminano con le gambe degli uomini e quindi non si possono tenere scissi i programmi da chi poi dovrà interpretarli. Per il resto credo che andremo a sentire anche cosa ci dice il Presidente Esploratore.